Ha preso il via quest'oggi a Bologna la terza edizione di Smart City Exhibition, manifestazione europea dedicata alle città e alle comunità intelligenti. Durante queste tre giorni Bologna diventa luogo di incontri di ricercatori, makers, politici, imprenditori e cittadini interessati al binomio innovazione e ambiente. Quest'oggi vi è stato il primo incontro del forum comune Costruiamo le città del futuro, ramendiamo l'Italia, a cui hanno preso parte il Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, il Presidente di Confindustria Giorgio Squinzi e il Sindaco di Bologna Virginio Merola. Serve un patto tra governo, imprese e ricerca per il rilancio strategico e una nuova politica industriale. L'innovazione deve diventare il grande obiettivo nazionale. Queste le parole del Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti. Linee di principio riprese anche dal Presidente di Confindustria Squinzi che ha sottolineato l'esigenza di un drastico cambio nell'agenda politica e di un'interazione verticale tra la governance e il modo di utilizzare la città. Necessità ribadita anche da Francesco Profumo, Presidente dell'Osservatorio Smart City dell'Anci, che nel suo intervento ha evidenziato che il 75% dell'energia che consumiamo nel mondo e l'80% delle emissioni di CO2 che produciamo provengono dalle città che occupano appena il 2% della superficie mondiale. Grazie. Grazie. Grazie.